siamo sempre nella fase del pre lavaggio visto che la x level il modello top della x level la w 59 83 anche se adesso è stata sostituita quella della versione vapore a 59 83 il pre lavaggio si può prolungare nel senso che andando su impostazioni il pre lavaggio standard è di 25 minuti però loro ti danno la possibilità tramite le impostazioni di aggiungere altri 25 minuti al pre lavaggio quindi sarebbero 50 minuti effettivi la macchina dopo i 25 minuti base effettua una fase come state vedendo tipo di ammollo fa una fase di ammollo nei restanti 25 minuti nei primi 25 minuti ti fa il pre lavaggio normale quindi ti porta la temperatura a 35 gradi mantenendo sempre la temperatura comunque perché la 1000 ha la possibilità di mantenerti comunque ti mantiene la temperatura costante sempre per dire se è 40 gradi ti mantiene sempre 40 gradi e adesso sta facendo questa fase degli altri 25 minuti che è una fase da mollo praticamente e adesso facendo questa fase di ammollo come potete notare la macchina fa delle pause molto più lunghe e delle rotazioni più lunghe fa 20 secondi di rotazione alternata logicamente